Ho deciso di fare una pausa da questi droni, diciamo temporanea perché ho bisogno di un po' di stimoli esterni e vi porto con me in questa avventura Una giornata all'insegna delle squame Una giornata all'insegna della punza di pesce Una giornata all'insegna del non fare una minchia Oh Cristo! C'è la diceria a Torino che nelle acque dolci da queste parti si aggiri un mostro Un dinosauro non ancora istinto che è presente, bello vivo e vegeto, da queste parti E quindi mi sono svegliato con la carogna di andarlo a prendere Andremo a caccia di questo mostro Si dice che abbia la testa di un coccodrillo, i denti di tirannosauro E una squama sola pesi tra chi? Praticamente un pesce multiforme Anche ha una codata in faccia, ha un'emorragia celebrale Ti chiede Ti chiede Ti chiede Ti chiede Coffi Ti chiede Ti chiede Chi Turo letta Indipatela I Anche Vi Grazie a tutti. 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 Adesso assisteremo ad una grande emissione, un'emissione di storioni bianchi, Trasmontanus, dal peso di almeno 100 kg. C'è giusto per capirci, no? E' quello che ho preso io pesava? Prendi il maniglione. E' un'emissione di storia. E' un'emissione di storia. E' un'emissione di storia. E' un'emissione di storia. E' un'emissione di storia.